Ho fatto una cosa, ho eliminato tutte le storie Davvero? Sì, io non guardo le storie più di nessuno Ma va? Anche dei miei amici Davvero? Anche di mia sorella Io non guardo? Sì E comunque, alla fine, voglio dire, mi alzo la mattina e guardo quello che cosa fanno gli altri e devo ancora fare quello che devo fare io Questa è una cosa... lo farei adesso, sai? Ma ragazzi, se non lo fate sbagliate, qualcuno addirittura mi ha criticato Ma no, ma tu sei troppo... Ma scusa, ma tre anni fa esisteva... quattro anni fa esistevano le storie? No Eh... perché? Una campanina sull'albero e quello di fianco ha costruito nella storia un nido per uccelli Direi cazzo, ho potuto pensarci io Certo E non guardi la campana sull'albero che hai fatto te, capito? Solo perché guardi l'altro E non è una cosa intrinseca nel carattere di una persona È proprio una... credo che sia una questione chimica e fisica che dura un istante, una frazione di secondo dal momento in cui tu clicchi Proprio meccanica, cioè non è che bisogna farsi le paranoie sul Oddio, allora sono io che sono insicuro Cioè è proprio, ragazzi, al social Cioè è proprio, ragazzi...